Questo webinar nasce un po' da questa collaborazione che è partita fin dall'inizio della pandemia, fin dal primo lockdown, tra la neuropsichiatria infantile che fino a prima di questa pandemia neanche sapeva cosa fosse un'infezione, se non quelle specifiche relative, come dire, al sistema nervoso centrale, e un infettivologo che da subito ci ha affiancato a cercare di capire come poter ricominciare al più presto a lavorare in sicurezza e quale attenzioni avere per poter garantire ai bambini e alle famiglie da noi seguiti appunto la massima protezione dal contagio. Una collaborazione che ci ha fatto crescere tutti, ma che è stata anche molto vivace nel senso che ovviamente come potete immaginare il punto di vista di un infettivologo come di tutti coloro che stanno occupando di questa epidemia con lo sguardo della prevenzione del contagio è molto diverso dallo sguardo degli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile che hanno invece in mente la promozione della salute mentale, del benessere, dello sviluppo dei bambini e quindi come dire, per dire la cosa più banale, fin dall'inizio hanno cominciato a dire beh ma no, guardati come degli astronauti non possiamo lavorare nelle stanze con i bambini perché i bambini non lavoreranno mai con noi in quelle condizioni, no? Quindi come dire, c'è stata una ricca dinamica, un ricco conflitto che però poi ci ha portato a trovare degli accomodamenti ragionevoli per usare le parole della Convenzione ONU sulle persone con disabilità che ci sembra e anche molti genitori e operatori ci riportano essere stata utile per i bambini e per le famiglie stesse questo webinar sta esattamente in quella linea e soprattutto a differenza del primo in cui avevamo chiesto solo a Giovanni Fioni di parlare nel suo ruolo di infettivologo, troverete una seconda voce, una seconda voce che è quella di Francesca Dallara psicologa e psicoterapeuta alla Uompia del Policlinico e autrice di tutta la serie dei libri di Margherita e il coronavirus che molti di voi già conoscono e che in qualche modo diventa il portavoce delle criticità, dei dubbi, delle problematiche che sono state portate in queste settimane, in questi mesi dai genitori e quindi cerca di esemplificare proprio questa continua oscillazione che cerchiamo di trovare come vedrete con poche certezze ma molte soluzioni abbastanza utili. sempre in quest'ottica abbiamo organizzato per lo meno per i bambini e le famiglie del territorio milanese delle sedute vaccinali dedicate un po' più adattate ai bisogni dei bambini con disabilità e magari con delle fragilità comportamentali di cui magari poi in conclusione vi diciamo qualcosa di più sull'organizzazione e la prossima data la prima è stata stamattina e dal 10 di gennaio ce ne saranno delle altre. Mi fermerai qui per non portarvi a troppo tempo al webinar stesso e poi alle vostre domande passando la parola a Giovanni Fioni, infettivologo e ringraziandolo sia lui che Francesca per tutto il supporto di questo periodo. Grazie Giovanni, grazie Francesca. Grazie Antonella e buonasera a tutti. Allora iniziamo questa serata innanzitutto condividendo il mio schermo e quindi iniziando a vedere tutti la partenza. Questa la mediazione è tra due mondi così diversi. In realtà è avvenuta su un piano perché quando si si deve trovare si devono trovare delle mediazioni, i punti di vista sono differenti, bisogna trovare poi quale sia un piano che ha comune. Io sono effettivamente un infettivologo, un infettivologo che ha lavorato tanto sul territorio e di fronte alla situazione in cui ci troviamo, quindi dover partire con delle vaccinazioni per dei bambini, sapere che ci sono tanti dubbi, tanta esitanza intorno a questo questo argomento, di fronte avere tutte quelle informazioni rindondanti, un sacco di notizie false che poi si contraddicono tra di loro, la stessa contraddizione anche di volta in volta, poi vedremo meglio, degli stessi professionisti e quindi una situazione che aveva creato una situazione di sfiducia rispetto a quello che stava succedendo e anche alla proposta che veniva fatta, in questo caso la vaccinazione. Lo stesso problema era stato affrontato negli Stati Uniti, questo in una maniera molto, diciamo così, ampia e strutturata attraverso una campagna di massa fatta a livello centrale che informava le persone, questo per andare a ricostruire la fiducia. Noi siamo partiti e abbiamo trovato una mediazione su una cosa differente, crediamo che il sistema sanitario italiano sia diverso, che abbia delle potenzialità differenti e che quindi esistono dei riferimenti per le persone di fiducia dentro nei loro servizi, dentro agli operatori che gli danno risposte territoriali, pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli operatori sanitari e quelli di sostegno. Ecco, questo piano ci ha accomunato dicendo no, noi pensiamo che la risposta debba venire attraverso questo tipo di operatori, attraverso questi diservenzi, attraverso le modalità che già utilizziamo, che sono quelle di accogliere i dubbi delle persone, quelle di aprire degli spazi non giudicanti rispetto sia ai dubbi e sia alle convinzioni delle persone. Da qui nasce il progetto che vedete sullo schermo. Un progetto che ha questa sera come primo momento, quindi un momento di informazioni, ma dove, come vi abbiamo spiegato, abbiamo cercato di portare dentro anche i dubbi che ci sono arrivati in questi ultimi mesi e dall'altra parte l'idea che ci potessero aprire degli spazi come uno sportello Nossi Vax, dedicato ovviamente agli utenti e ai genitori che si appoggiano alla Uompia del Policlinico di Milano, dove in qualche modo accoglie ulteriormente gli ulteriori dubbi che non riusciamo a risolvere o a chiarire questa sera. E proprio in questa logica voi vedete che abbiamo sottolineato il problema dello scegliere. Lo scegliere rispetto alla condivisione dei propri dubbi, quindi un posto dove fare le domande, non essere giudicati e sentirsi ascoltati e non c'è essere soli nel cercare una risposta che non è già predefinita, non è uguale per tutti, ognuno deve trovare la sua e in particolare i genitori in due devono trovare la loro e dall'altra parte avere già un supporto di persone di cui vi fidate, i vostri operatori che vi supportano già per altre cose importanti e decisioni importanti che dovete prendere per i vostri figli. Dentro questo contesto la possibilità di esprimere anche le proprie preoccupazioni in quanto genitori, la possibilità di avere un posto dove dire una cosa ma poi convincerci che potrebbe essere anche l'altra e andare avanti e indietro rispetto alla decisione e anche di poter dire che non si è d'accordo o decidere di non cambiare la cosa. Vogliamo creare uno spazio dove scegliere diventa un atto consapevole. Dovete avere tutte le informazioni, spiegate nel modo più chiaro possibile in modo poi che in quanto genitori prendiate una decisione corretta per la situazione vostra, perché questo è un altro tema che ritroverete più avanti, di fatto non esistono soluzioni o risposte uguali per tutte. Allora, innanzitutto vi faccio una panoramica di quali sono gli argomenti che affronteremo questa sera e questo qua è il menu in qualche modo che ritroverete anche successivamente. Prima facciamo una carrellata su cosa sappiamo oggi dei vaccini e della loro efficacia. Poi parleremo proprio di bambini e quanto si effettano e quanto si ammalano. Successivamente andremo a vedere se i bambini hanno o non hanno un ruolo nella diffusione del virus dal punto di vista della nostra società, di quello che sta succedendo, delle ondate successive, ma anche andremo a cercare di capire meglio quali sono le complicanze specifiche dell'infezione covid per i bambini. Poi arriva la proposta, la proposta è quella di vacciniamo e quali sono i rischi allora per questa vaccinazione, cosa sappiamo di questi rischi e cosa non sappiamo di questi rischi. E dentro questo argomento ovviamente ci sono delle motivazioni, ci sono dei dati che ci possono far capire il perché vaccinare i bambini. Dentro a questo gruppo bambini poi ci sono anche i bambini fragili, i bambini che sono portatori di qualche disabilità psichica o fisica nei quali vanno fatti dei ragionamenti a parte. E ovviamente concluderemo eh la serata di oggi nello spiegarvi un po' meglio cosa è lo sportello no si vax che siamo andati che vi andiamo a proporre. Quindi partiamo con cosa sappiamo oggi dei vaccini e della loro efficacia. Ed ecco buongiorno a tutti, buonasera a tutti ed ecco che col primo punto arriva proprio il primo dubbio che abbiamo detto e siamo tutti d'accordo sul fatto che scegliere appunto significa anche condividere i propri dubbi, a me è venuto da correggere immediatamente come stata tuttina cosa sanno oggi dei vaccini, non cosa sappiamo. E questo significa cosa ci dicono e come riusciamo a capire di chi ci si può filare, tra le cose che ci raccontano e tra le tante diverse fonti di informazioni che sono anche tantissime e non ritagliate come ci diceva anche prima Giovanni come succede soprattutto in America ma anche in Italia, non ritagliate su misura, sulla persona ma quindi divulgate in senso generale. Quindi come si capisce se le cose che ascoltiamo hanno senso per la popolazione generale, hanno senso per i bambini, per i grandi, per i piccoli oppure per la mia situazione che è particolare per tanti motivi diversi tra cui quello che ci sta molto a cuore che è quello anche che riguarda l'ultima parte di questo webinar e quindi situazioni con specifiche fragilità. Ecco, questo è il dubbio con cui lascio la parola a Giovanni per spiegarci cosa sapete dei vaccini? Allora, per questa prima immagine ci cerchiamo di capire come faccio, la proposta è quella di un vaccino del mRNA, come sapete Pfizer o Moderna che sia per i bambini 511 e Pfizer, ad una dose di un terzo di quella che è la dose per gli adulti o dei bambini dai 12 anni in su, una dose di 10 microgrammi che è stata scelta dopo la sperimentazione che è stata fatta, dove sono stati usati 10, 20 e 30 milligrammi in quanto era il dosaggio che garantiva un risultato senza dover alzare eccessivamente la dose. Quindi non perché ci sono stati degli effetti colaterali maggiori negli altri, ma semplicemente perché con 10 microgrammi avevamo degli ottimi risultati di efficacia delle vaccinazioni nei bambini. Allora, il vaccino contiene delle particelle che vedete lipidiche che contengono del mRNA. Allora, questo viene iniettato, vedete, viene all'interno della cellula tradotto questo mRNA e il messaggio che porta è quello di fare delle proteine, delle proteine di superficie che si chiamano spike, proteine, che vengono, come vedete, esposte sulla superficie della cellula, sostanzialmente, e questo fatto fa in modo che il sistema immunitario veda queste proteine e costruisca delle difese che si chiamano anticorpi, ma si chiamano anche difese cellulare contro un'eventuale aggressione del virus. Se il virus arriverà ci saranno già anticorpi, ci saranno già cellule pronti a riconoscerlo e ovviamente ad eliminarlo. La prima cosa che vorrei farvi vedere è il fatto che il vaccino non tocca assolutamente il nucleo della cellula, come prima cosa, e l'altra cosa che l'mRNA, che vedete questo, viene immediatamente degradato dopo che ha fatto la sua funzione, quindi che ha aiutato a costruire le proteine che ci servono, le spike proteine. E questo ovviamente mi introduce il primo dubbio. Allora, qualche genitore diceva, ma certo, mettiamo dentro dell'mRNA, che è il materiale genetico, che ha a che fare con il DNA, eccetera, eccetera, questa cosa non è che modificano i geni dei nostri figli. Bene, per spiegare meglio questo problema, vi faccio un passo indietro. Voi sapete che nella nostra vita i nostri bambini incontrano noi, tutti. Incontriamo tantissimi virus, li incontriamo quotidianamente e questi virus, in qualche modo, abbiamo la capacità di combatterli. Alcuni bene, alcuni meno bene. In particolar modo sapete che il coronavirus riesce comunque a darci una patologia, quindi non siamo così bravi a combatterlo, ma attenzione, stiamo parlando di questo coronavirus, perché i coronavirus sono tanti, già circolavano da anni nella nostra società, buona parte delle infezioni stagionali, che noi chiamiamo influenze, di fatto sono anche da coronavirus e in qualche modo siamo in grado di tenerli sotto controllo. In particolare, questo Covid-19, invece, facciamo veramente tanta, tanta fatica. Ma cosa succede quando incontriamo un virus? Normalmente, un virus qualsiasi, questo entra nella nostra cellula, libera il suo potenziale genetico, che si chiami DNA o RNA, comunque il suo messaggio, e praticamente le nostre cellule replicano il DNA e l'RNA del virus, in due parti. Una parte, che servirà a essere l'RNA e il DNA del virus, il nuovo virus che si va a formare, e dall'altra parte i messaggi che servono a fare proteine per l'involucro, le proteine accessorie, e guardate anche le spike proteine. Immediatamente dopo, questo secondo mRNA viene degradato, mentre l'RNA normale rimane, il virus viene riassemblato, quando ci sono le proteine, l'involucro, dentro ci sarà il nuovo messaggio, viene espulso dalla cellula, ed è pronto ad infettare nuove cellule. Ecco, io adesso vi faccio vedere dove, come funziona invece un vaccino. Vedete che il vaccino fornisce questa parte, questo messaggio, questo messaggio, quando l'ha fornito, viene immediatamente degradato, abbiamo la produzione delle proteine, e come abbiamo visto nell'altra slide, verranno messe sulla superficie per attivare il sistema immunitario. Come vedete, non c'è nulla che ha a che fare con i geni, neanche nelle infezioni virali normali, quindi il meccanismo che attiva la vaccinazione è un meccanismo assolutamente fisiologico, che noi incontriamo mille volte nella nostra vita, forse anche tanto di più, e diciamo, il nostro sistema immunitario è fatto apposta, è fatto proprio per questa cosa qua, per crearci le difese. Ma allora, e l'altro dubbio che ci hanno portato tanto, ma questo vaccino che fanno i nostri figli, è un vaccino sperimentale, questo è stato molto cavalcato come argomento legato al fatto che le vaccinazioni ad mRNA non erano ancora in commercio. Ma se andate a cercare, io ho fatto per voi le informazioni, scoprite che dieci anni fa, già due ditte, che conoscete bene perché si chiamano Pfizer e Moderna, tantalmente, poi, avevano sviluppato una metodologia per fare i vaccini con questa tecnica dell'mRNA. L'unico problema è che i vaccini che avevano registrato erano efficaci, sicuri, ma la loro produzione costava molto. In commercio esistevano, per le stesse malattie, dei vaccini efficaci, che non costavano ed erano meno costosi, e quindi la tecnologia della vaccinazione mRNA era stata messa in sospeso. Questo ha preso possibile, per coppio come sono fatti questi vaccini, che quando si è scoperto il virus, si è riuscito a capire come era fatto il virus, quindi il genoma, diciamo così, del virus, le sue caratteristiche, è stato rapidissimo la possibilità di costruire un mRNA, mettere nel veicolo che già funzionava, eccetera, eccetera, e iniziare una sperimentazione. La sperimentazione, quindi, è potuta iniziare subito con i vaccini mRNA, ancora prima degli altri vaccini, AstraZeneca, eccetera, eccetera, e ovviamente la sperimentazione si è conclusa con la presentazione della documentazione per la registrazione dei due farmaci. La sperimentazione riguardava la sicurezza e l'efficacia. Abbiamo avuto una fase in cui sono stati messi in commercio in fase ancora temporanea, diciamo per spiegarci questa situazione qua, intanto che si acquisivano tutti i dati ulteriori, completavano per i due vaccini, questa fase si è conclusa e in questo momento i vaccini sono registrati come qualsiasi altro farmaco con tutte le caratteristiche che devono avere. Vedremo poi su questa affermazione anche come lo studio per i bambini, ma di fatto in questo momento la cosa che possiamo dire è che non ci sono, non è più una fase sperimentale questi vaccini, sono farmaci approvati a tutti gli effetti. Dove sta la confusione? La confusione sta nel fatto che non si smette mai di sperimentare, voglio dire, un problema, la durata dei vaccini. Ebbene, per sapere quanto durano i vaccini, che non c'è niente a fare con la loro registrazione, abbiamo dovuto fare una ricerca ad hoc per capire. Quindi di fatto si è aperta un'altra fase che va a verificare quanto durano gli anticorpi, quanto ci coprono, eccetera, eccetera. Ma poi sono arrivate le nuove varianti, è ovvio, si fa un'altra ricerca e un'altra sperimentazione sul fatto se questi vaccini sono efficaci o quanto sono efficaci sulle nuove varianti. Questo non vuol dire che i vaccini siano sperimentali. Si sta facendo ancora ricerca intorno a questa cosa qua. Ma oltre a questo abbiamo degli altri dati, ma certo che ce li abbiamo i dati ormai, nel senso che ormai negli Stati Uniti siamo a più di 5 milioni di bambini vaccinati, di cui 3 milioni addirittura con due dosi, e per gli adulti siamo oltre a 4 miliardi e mezzo di soggetti vaccinati. Ormai intorno al problema del vaccino possiamo dire che abbiamo più dati di qualsiasi altro farmaco. Il motivo è semplice, è perché un farmaco ve lo prendono 100.000 persone, qua stiamo parlando ovviamente di tutte le persone del pianeta e pian piano si andrà a coprire. Quindi i numeri sono veramente, veramente importanti. Ovviamente, siccome ho detto che gli studi sono sull'efficacia e poi sulla sicurezza, incominciamo dall'efficacia. Sono efficaci i vaccini sulle nuove infezioni, ma direi che questo è l'andamento delle onde pandemiche successive e vedete come di fatto i vaccini siano stati in grado di controllare queste due. Vi ricordo che peraltro qua in mezzo abbiamo smesso la severità del lockdown. Quindi in qualche maniera ci si poteva aspettare che qua si ripartisse con un'altra ondata, viceversa, c'è stata un'ottima tenuta da parte della cosa. Chi sono i soggetti che di fatto sono sfuggiti, che ancora adesso in qualche modo corrono il rischio di essere dentro un'ondata di infezioni, stiamo parlando di infezioni e non di malattia grave, vedete che in cima ci sono coloro che noi non abbiamo vaccinato e questo dato invece poi vedremo come lo andiamo a interpretare perché la fascia 10-19 anni invece ha visto un'ottima adesione e quindi è presumibile che questo era il pre la partenza stiamo vedendo ancora le cose di qualche mese fa di fatto hanno risposto molto bene e si pensa che quella curva possa scendere molto rapidamente e malgrado i 5-11 continuano a salire per un po' anche loro se riusciremo a vaccinarli di fatto la curva dovrebbe seguire a essere una piccola onda rispetto a questa situazione. Questi sono i dati di Regione Lombardia l'unica cosa che volevo farvi vedere era che di fatto seguono quelli italiani quindi non abbiamo grosse vaccinazioni questa curva abbiamo ormai capito anche cosa ci sta dentro e chi sono coloro che giustificano questo innalzamento della curva. Ma ancora e forse ancora più importante è ma questi vaccini sono efficaci o no sulla malattia grave sulla morte allora questa è la curva aggiornata sui decessi e vedete che dopo le due ondate e quel numero di morti così importanti il numero di soggetti deceduti di fatti ancora eccessivo perché non sono non si può mai dire che sono pochi però di fatto non abbiamo più i numeri che avevamo avuto delle due ondate e questo è grazie all'effetto dei vaccini allora lascio la parola a Francesca scusate grazie Giovanni abbiamo visto i numeri e i grafici però appunto rimanendo sull'onda di quanto detto all'inizio scegliere vuol dire anche incontrare qualcuno di cui fidarsi e quello che volevo dare come suggestione adesso è che la situazione sicuramente come abbiamo imparato a capire è sempre continua in evoluzione quindi è instabile e questo procura paure ansie confusione però ci sono anche degli aggravanti in questo nel senso che spesso in questi mesi medici e scienziati non sono stati d'accordo tra di loro e alcuni invece hanno esposto delle certezze granitiche e poi hanno cambiato idea che sono contraddetti dopo poco e quindi anche i tuoi grafici noi li guardiamo però la domanda è sempre lì cioè come facciamo a fidarci anche perché più perdiamo fiducia e più l'incertezza ci spinge a cercare delle risposte assolute perché cercare delle rassicurazioni qualcosa che tenga vada la preoccupazione che anche è molto stancante da portare con sé per tutto questo tempo e quindi la domanda che ti pongo e con cui appunto poi ti lascio proseguire nella tua presentazione è se sono si aiutano di più secondo te delle certezze assolute dobbiamo cominciare a vedere le cose come delle conoscenze in evoluzione quindi se dobbiamo adattarci ad abbracciare l'incertezza grazie Francesca ti ringrazio anche perché questo è un tema che mi è molto molto caro io vi devo spiegare un attimo questa cosa qua la scienza non non riesce mai a dare delle risposte assolute e a chiarire qualunque dubbi la scienza progredisce attraverso il mettere in discussione le cose che sappiamo ed è sempre pronta a ricredersi a ridefinire le certezze che che vengono trovate di volta in volta io a me dispiace tanto questa situazione qua perché fa parte del mio mondo ma io capisco che dall'esterno dalle persone questo venga vissuto come incerto confuso contraddittorio ma non è così non è così in medicina noi decidiamo sempre per il meglio con le informazioni che abbiamo quindi noi ci appoggiamo sulle certezze che sappiamo essere provvisorie perché come poi ragioneremo sei mesi fa no sei no ma sì diciamo vi avrei detto che due vaccinazioni coprono le persone poi abbiamo scoperto che non è così e quindi abbiamo riformulato ci vuole la terza dose oggi addirittura si parla persino della quarta ma noi dobbiamo scegliere ogni momento con le informazioni che abbiamo per il meglio cercando di utilizzare al meglio le informazioni che abbiamo so che questo è fatica so che questo viene percepito dall'esterno ma questa cosa qua dell'incertezza è proprio una cosa che dobbiamo imparare a gestire e vi spiegherò anche bene il perché dobbiamo impararla a gestire infatti questa slide fa una fotografia se riesco a spostare questo sono molto più compito fa una fotografia a 30 giorni sull'efficacia dei vaccini e anche sulla loro protezione cominciamo a vedere sull'efficacia sull'efficacia vedete qua abbiamo i nuovi positivi allora vediamo che quelli azzurrini sono i non vaccinati quelli rosa sono quelli vaccinati non completi e vediamo che sono la maggioranza delle persone dei nuovi positivi ma esiste ancora una quota di chi positivi persone con due vaccinazioni da più di cinque mesi ma addirittura con persone vedete i viola con un ciclo con meno di cinque mesi e addirittura abbiamo una quota di soggetti con la terza dose booster questi verdi qua ok questa è un'informazione nuova sappiamo e questo credo che vi sia già tornato da da molti informazioni che quindi in qualche modo sulle nuove infezioni la vaccinazione protegge meno di quello che ci aspettavamo ci aspettavamo una protezione intorno all'80% di fatto ci stiamo accorgendo che questo non è vero e forse questo non è vero perché cambia la realtà sono cambiate ci sono nuove mutazioni di virus può essere oppure perché abbiamo dato per scontato che tutte le persone rispondano alla vaccinazione nella stessa maniera ma non è così alcuni recepiscono in maniera forte le vaccinazioni parentesi i bambini poi vi spiegherò anche perché e gli anziani la recepiscono in maniera più blanda e meno duratura questo è quello su cui ci interroghiamo non c'è nessuna contraddizione abbiamo delle nuove evidenze e in base a quello prendiamo nuove decisioni ma vedete che se andiamo sui ricoverati e la terapia intensiva vediamo che i nostri vaccini hanno assolutamente una ottima tenuta e incominciamo a vedere che il numero di persone non vaccinate o con vaccino incompleto sono la maggioranza in tutte le categorie di età diversa è la situazione dei deceduti dove ricompaiono sugli over 80 le fragilità e le pluripatologie che caratteristicano questo tipo di classe di età e vediamo che oltre ad avere molti non vaccinati tra i deceduti abbiamo anche una quota di persone che erano state vaccinate e addirittura guardate i viola con un ciclo completo da meno di 5 mesi quindi chiedo scusa e per darvi un po' il punto la situazione in cui siamo vediamo un attimo com'è lo stato oggi e questa è una fotografia di qualche giorno fa di due giorni fa dello stato vaccinale innanzitutto guardiamoci oggi stiamo parlando delle reazioni delle 5 e 11 siamo questo pezzettino qua e devo dire che sinceramente essendo stato oggi a vaccinare mi fa veramente gran bello vedere questi ragazzi con questa voglia di esserci anche loro e di venire a vaccinarsi malgrado le paure che hanno malgrado i dubbi che hanno ma di essere protagonisti di questa storia qua e quindi questa è una cosa molto molto bella che riescono a trasmettere i bambini in questo momento ma guardate cosa trasmettono i ragazzi da tra i 12 e i 19 anni sono partiti per ultimi per fare le vaccinazioni e stanno dando l'esempio a tutti rispetto a cosa vuol dire avere un impegno e aver voglia di tutelare se stessi e gli altri e di essere protagonisti in questa società credo che questo sia una grande grande lezione che dobbiamo prendere dai ragazzi di queste generazioni se ovviamente l'argomento poi non è stato sviluppato vedremo quali spazi abbiamo successivamente per andarle ancora ad affrontare e veniamo però al secondo punto e quanto si infettano i bambini allora riprendiamo la curva che avevamo visto prima questo ovviamente stiamo parlando degli ultimi due mesi quindi la esplodiamo un attimo vediamo che riguarda i numeri assoluti quindi i numeri delle persone e dei soggetti che si sono infettati quando andiamo a vedere i numeri assoluti vediamo che effettivamente ci stanno dentro sono sono il 0,9 e 10 19 sono effettivamente in pool position ma insieme anche ovviamente a quella a quel gruppo di persone che avevamo visto aver accettato se vedete scusate qua aver accettato relativamente questi qua 40 49 la vaccinazione 40 49 li vedete qua ora ovviamente questi sono i numeri assoluti ma capite anche voi che non è che le classi d'età 0,9 30 39 sono fatte dallo stesso numero di persone quando andiamo a correggere per la numerosità delle popolazioni delle classi ovviamente incominciamo a vedere qualcosa di più interessante se prendiamo i casi un tasso un caso di 100.000 abitanti vediamo che le due meno vaccinate le due classi di età meno vaccinate sono all'apice della nostra curva come si diceva per i 10 19 con un effetto trascinamento del fatto che le vaccinazioni sono appena partite sapete che esistono 14 giorni di latenza rispetto all'efficacia e quindi in qualche maniera il trascinamento l'effetto delle vaccinazioni lo vedremo più tardi questo è la città metropolitana di Milano vi faccio vedere queste zone viola sono le zone dove ci sono state più di 250 casi questo è il passato ma vedete cosa sta succedendo in questo momento anche la città di Milano questo vi ho riportato le classi d'età che si vedevano poco nella slide e sono le classi d'età e vedete che in questo momento cosa che penso già sappiate essendo dei genitori i cluster che abbiamo visto sono dai 5 ai 9 anni e dai 10 ai 14 anni e sempre all'interno del qual è la situazione clitica mi hanno detto quanto si infettano e vediamo come si infettano perché di fatto gira questa voce corretta peraltro che i bambini ammalano poco è vero lo prendono il covid e ammalano poco poco rispetto agli adulti agli anziani troppo se pensiamo che stiamo parlando di una bambino che verrà sottoposto a una situazione sanitaria grave ed importante quando diciamo 0,27% dei bambini che hanno covid avranno un covid severo che vuol dire ricovero terapia intensiva severo sostanzialmente o lo 0,21% dei 10 ai 16 anni non stiamo parlando esattamente di una situazione proprio tranquilla perché non stiamo parlando di una situazione tranquilla perché di fatto se noi pensiamo che quelli che si infettano hanno questa probabilità di avere una malattia severa se abbiamo a che fare con il covid alfa che i bambini giusto avevano un'infezione relativa se abbiamo col delta già ci preoccupiamo un po' di più perché incominciamo a pensare che i bambini possono essere molto infettati se abbiamo una situazione tipo Omicron e questi dati che abbiamo su Omicron di fatto ci dicono che infetta i bambini quanto gli adulti e i bambini non vaccinati quindi sono più numerosi vedi i dati che avete visto precedentemente ecco che questi numeri incominciano a essere un po' preoccupanti e ci torneremo su questo aspetto qua e una cosa che è stata molto molto discusso è ma i bambini contribuiscono non contribuiscono a portare in giro il virus allora questo era un argomento di qualche mese fa diciamo molto dibattuto chi diceva vi ricordate apriamo le scuole non le apriamo le scuole sapremo le scuole cosa succede cosa non succede poi ha stato stabilito che in effetti i bambini in qualche maniera non erano centrali nella diffusione ma probabilmente centravano molto di più adulti che in qualche modo asintomatici e oggi oggi sappiamo già che i cluster che vediamo nelle classi sono poi quelli che sostengono le infezioni intrafamiliari e questo ci conferma con i dati che l'agenzia europea ci comunicava che i bambini possono infettarsi e possono trasmettere il covid non abbiamo un modo di dire quanto sono infettivi perché l'RNA che troviamo dentro i nostri tamponi non ci dice quanto quanto si ammaleranno e quanto possono trasmettere il virus le cariche virali sembravano minori nei bambini ma con queste nuove varianti credo per me sia chiaro a tutti che non è più così quindi nuova certezza che arriva e ci fa cambiare tutte le strategie e i pensieri che avevamo intorno a come gestire questa questa parte qua nuove realtà nuove certezze sicuramente provvisorie che però ci fanno cambiare il modo di affrontare la situazione e l'altra cosa che sapevamo ma questa forse è ancora vera è che la quantità di virus e la dismissione è lo stesso uguale agli adulti ma probabilmente dura di meno entreremo un po' nello specifico del perché potrebbe durare di meno l'eliminazione del virus e questo ve l'ho segnato un attimo perché anche questo è un dato importante per un'altra complicanza in via gastroenterica sembra più prolungata nei bambini perché è tipicamente dei bambini la localizzazione gastroenterica anche del del covid dati sui neonatologici dicono che i bambini veramente asintomatici sono il 20% avete visto che nella media i bambini hanno un superiore al 50% sono asintomatici ma quando parliamo di neonati è differente come ci fanno sottolineare e come vi ho già detto i virus mutanti hanno una capacità di infettare i bambini quanto gli adulti uguali vi faccio vedere questa slide perché è una slide vecchia una slide che parlava dell'alpha del primo coronavirus in realtà stiamo parlando è il British Journal of Medicine del 2020 ma già allora si faceva vedere in posti poco frequentati e luoghi affollati sostanzialmente di fronte a diverse comportamente questo vuol dire avere sulla mascherina questi due sono due sulla mascherina per un breve periodo per un periodo prolungato stando zitti parlando cantando o parlando ad alta voce vedete che le zone sono verdi o gialle o rosse a secondo del rischio vi faccio un tanto per fare un esempio mettiamo una classe quindi una situazione abbastanza abbastanza affollata con indoors quindi dentro chiusi in una classe che però è stata ben ventilata dai come organizzazione vedete che nel momento in cui c'è la la mascherina e il contatto quello vicino e per un breve intervento stiamo in una zona assolutamente gestibile ovviamente se i tempi si prolungano specialmente i tempi tra una ventilazione e l'altra vedete che la situazione cambia e se in quella classe si canta si urla eccetera la situazione può essere anche ad altro rischio di trasmissione ovviamente se invece prendiamo le situazioni senza mascherina o la probabilità di rischio in contesti chiusi è assolutamente alta vi dico questa cosa qua che avevamo a che fare con un virus che aveva una capacità di infettire di infettare persone sapete che si misura con l'R con zero di circa due il virus con cui abbiamo a che fare oggi è un virus che si dovrebbe girare tra il 4 e il 6 di R con zero quindi un'infettività molto maggiore per via aerea e per locali chiusi e non ventilati quali sono le complicanze dei bambini la prima cosa era che avevamo una serie di ipotesi del perché i bambini si infettavano meno avevano malattie meno gravi la prima che è stata quella più validata era che i bambini mantenevano comunque a livello delle vie aeree il virus che invece non trovava la possibilità di svilupparsi all'interno dell'albero respiratorio in quanto i bambini non avevano ancora sviluppato per molti anni gli AC2 che sono dei recettori vedete che il virus è in grado di legarsi e li utilizza per entrare nella cellula quindi in qualche modo la non avere questi recettori ancora oggi li dice sì certo possono essere infetti ma il virus rimane localizzato a livello della superficie delle mucose respiratorie e non ha quindi un ingresso per perlomeno non ha un ingresso rapido sostanzialmente all'interno del sistema respiratorio e delle cellule del sistema respiratorio che sapete portano poi alla polmonite e all'insufficienza respiratoria vi faccio vedere questa era una slide a cui ho preso la spiegazione dei nostri in contatti con il virus vi faccio vedere che quando il virus libera la sua informazione genetica nella cellula vedete che viene tradotto e vengono prodotte prodotte questo tipo di proteine vi faccio notare come questa proteina è quella che ci interessa ed è questa che noi facciamo produrre attraverso il vaccino in questo caso vengono assemblate per costruire un nuovo virus ma noi sappiamo che se gli diamo solo lo spike questa finirà sulla membrana e creava una immunità dicevamo che il 52% dei bambini hanno pochi sintomi nella maggioranza sono totalmente asintomatici e questo avere dei sintomi lievi o moderati vedremo anche quali sono questi sintomi di fatto li coinvolge relativamente all'interno di questa problematica ma cominciamo a dire che sono state descritte delle sindrome di infiammatorie multisistemiche in alcuni bambini erano già una patologia che conoscevamo sostanzialmente che coinvolge i bambini da 3-8 anni malati di covid che hanno malato covid e si manifesta 3-4 settimane dopo l'infezione ed ha una situazione infiammatoria in molti organi è una forma di disregolazione del sistema immunitario per fortuna è ovviamente una patologia rara ma è anche una patologia parecchio impegnativa per i colleghi che se ne devono occupare e soprattutto per i bambini che devono sopportare questa situazione pluri infiammatoria ovviamente quando diciamo i sintomi vi volevo far vedere questa pubblicazione che in maniera secondo me abbastanza geniale divide i sintomi dei bambini da 5 a 11 da quelli da 12 a 17 ci serve per far capire due cose la prima che i sintomi non sono uguali vedete che i bambini la perdita dell'olfatto per esempio molto presente nei bambini quasi il 50% dei bambini di 12 di 17 la perdita dell'olfatto è soltanto 1 su 5 dei bambini più piccoli ma complessivamente vedete anche che la percentuale di sintomi che sono presenti sono inferiori nei bambini 5 a 11 rispetto ai bambini più grandi e questo ci dice che i bambini comunque più piccoli hanno delle risposte anche al virus più efficaci quando parliamo di sintomi so che non vi devo insegnare nulla oggi stiamo parlando in un contesto di genitori che ben sanno le cose di cui sto parlando ma ho voluto lo stesso ricordare per tutti per tutti gli altri che vedranno questo webinar che l'espressione di alcuni sintomi da parte di soggetti con difficoltà di comunicazione non è così lineare così come quando ovviamente possono avere la febbre possono avere certo possiamo misurare la temperatura ma si può esprimere anche attraverso comportamenti di togliersi oppure rabbrividire stare in un angolo e come il problema di una tosse che diversamente dal solito ha avuto una comparsa improvvisa ma ancora di più alcune altre difficoltà respiratorie che ci fanno segnalare senza che la persona ce lo possa comunicare come l'aumento della frequenza le cianosi quindi le mucose che invece di rose diventano bluastre e i rumori anormali dico anormali perché uno potrebbe avere già dei rumori respiratori particolari sue caratteristiche ma in questo caso c'è il cambiamento e questa cosa qua mi fermo qua perché non vado avanti ma credo che sia poi il problema centrale è considerare come il soggetto comunica già i suoi sintomi questo già lo sapete questa è la conoscenza che va valorizzata la vostra attenzione e le vostre conoscenze sul bambino che esprime il dolore la perdita dell'olfatto con la perdita dell'alimentazione dell'appetito piuttosto che un fastidio che è una febbre a modo suo e voi sapete quale è attraverso gli anni che avete passato al suo fianco e quando parliamo di conseguente del del covid ovviamente non possiamo scordarci che è vero che hanno parlato di alcune patologie gravissime da vaccinazione ma che la miocardite è una delle principali complicanze del del covid come altre patologie gravi che il covid nei bambini che hanno comunque quel zero come avete visto 3% hanno delle patologie di fatto hanno delle patologie serie che impegnative da ricovero e da terapie intensive ma anche un'altra entità che si sta cominciando a delineare è la possibilità che dopo aver fatto il covid i bambini si tirino dietro dei sintomi tardivi correlati con l'infezione che hanno avuto che viene chiamato long covid in questo momento guardate è una situazione complessa nel senso che ci sono quasi 80 sintomi diversi di questo long covid ci sono delle criticità ma quelli principali ve li ho riassunti la stanchezza stiamo parlando di sintomi che possono durare mesi o anni quindi mal di testa problemi del sonno problemi di concentrazione la nebbia cognitiva a scuola problemi dei bambini e i dolori muscolari e le articolazioni che perdurano per mesi e ovviamente anche la tosse persistente e perché viene questo long covid ho cercato per riuscire a dare stasera delle spiegazioni ma l'ipotesi più accreditata è che esista una sorta di stimolo del sistema immunitario e infiammatorio sul lungo periodo che il covid non si spenga forse alcuni stanno ipotizzando che quella permanenza del virus nel gastroenterico possa avere una correlazione con questo stato infiammatorio del lungo periodo sinceramente si riesce poco a stimare si dice che dal 10 al 14% dei bambini che hanno fatto covid possano avere un long covid ma la rilevazione non è uguale in tutti gli stati come vi dicevo la descrizione dell'uncovid è molto variegata e molte volte non viene correlato il sintomo tardivo del bambino con l'infezione che ha avuto ma la cosa forse più importante che ho trovato in letteratura e che ho aggiunto proprio oggi è che tra le sintomatologie le tipologie della long covid quindi degli effetti a lunga distanza del covid c'è qualcosa che non è fisico ma è una sindrome dovuta al post ricovero in terapia intensiva cioè tutto il trauma che il bambino ha avuto restando all'interno di terapie ad alta intensità inquadrato quali sono un po' le infezioni quali sono le complicanze veniamo un attimo proprio al tema di stasera al cuore della cosa e quali sono i rischi per la vaccinazione della covid 19 nella fascia 5 e 11 e per fare questo non posso che appoggiarmi a quelli che sono uno dei due studi che hanno che sono stati presentati per registrare il vaccino tra i 5 e 11 anni questi studi sono stati presentati come sapete sia prima in America poi in Europa e poi successivamente in Italia e vi posso dire anche questa cosa che personalmente non essendo poi così competente nella studio ho chiesto a una collega che lo fa di mestiere quanto fossero solidi i dati presentati e la risposta dopo una giornata di lavoro anche della collega che ha analizzato tutta la documentazione presentata è che in questo momento i dati che sono stati presentati sono molto convincenti sia per quanto riguarda l'efficacia ma anche per quanto riguarda la salute quindi per quanto riguarda la sicurezza vi dico le cose che io ho trovato stiamo parlando di Pfizer di 10 microgrammi che è la dose per i bambini 5-11 lo studio ha avuto una sorveglianza attraverso un sistema informatizzato in cui tutti i genitori potevano segnalare qualunque cosa dopo la vaccinazione per sette giorni qualsiasi cosa avesse il bambino poteva segnalarlo direttamente senza dover compilare moduli senza dover telefonare ai questo per facilitare l'ingresso delle informazioni a fianco di questo sono state fatte in aggiunta delle un monitoraggio attivo su alcune patologie le due più importanti sapete essere la miocardite e la pericardite per cui in qualche modo su questo il monitoraggio attivo vuol dire che si telefonava quotidianamente a casa dei bambini un campione ovviamente dei bambini chiedendo se avessero dei disturbi come il dolore al petto come la mancanza di respiro attivamente dopo la prima dose e fino ad un mese dopo la seconda dose sapete che la miocardite e la pericardite si va a concentrare in una faccia 14-20 giorni dopo prevalentemente la dose di vaccino il monitoraggio degli eventi inversi che adesso vediamo è comunque seguito sia per i severi sia per i medi e per i lievi per sei mesi dopo la somminizzazione della seconda dose questo è lo studio che i dati che sono stati presentati innanzitutto non vi stupite per favore del fatto che il gruppo dei placebo cioè quelli che hanno assunto sostanzialmente non il vaccino ma solo le componenti aggiuntive del vaccino sostanzialmente avessero dei sintomi i sintomi li trovate qua sotto la febbre la fatica vedete 34-3 questa è la prima dose questa è la seconda dose 39-24 vedi che qua diventa significativa la fatica rispetto al mal di testa anche questo 28-19 diventa significativa ma nella prima dose assolutamente non lo è ma su questo vi volevo fare concentrare soprattutto su questo dato che è l'uso di antipiretici quindi diciamo nel momento in cui comunque il bambino sta male credo che nessuno utilizzi volentieri dei farmaci se non ce n'è bisogno e questo credo che renda un po' giustizia effettivamente del effettivo effetti collaterali stiamo parlando di 20 a 8 significativo l'utilizzo è la necessità di antipiretici o analgesici nei bambini vaccinati rispetto ai placebo stiamo parlando comunque di tutti effetti previsti rispetto alla schedula diciamo vaccinale non vi sono stati invece altri eventi avversi né pericarditi né miocarditi come funziona il sistema degli eventi avversi la serietà del sistema che siamo in funzione anche in Italia oltre che in Europa e nell'America che vengono segnalati tutti gli eventi avversi severi di qualsiasi genere indipendentemente che si pensi o non si pensi che riguardino il vaccino sarà una commissione indipendente a valutare se sono correlati o non sono correlati quindi voi troverete una febbre alta sostanzialmente che hanno trovato a essere correlata l'avete vista la febbre che è stato risolto attraverso la somministrazione di antipiretico in 24 ore il gruppo è quello dei vaccinati però è evidente che pur nel gruppo dei vaccinati la frattura di un arco è stato segnalato ma non è correlato alla vaccinazione e nel gruppo dei placebo c'è stato un incidente come vi dicevo non ci sono stati né anafilassi quindi né reazioni allergiche gravi e invece sono state registrate quattro reazioni allergiche locali di media gravità dopo la seconda dose dopo la sensibilizzazione ovviamente le allergie locali di media gravità venivano trattate come sapete in maniera farmacologica senza grosse conseguizio nel tempo e per sempre per volere ragionare un attimo con voi vi chiedo se questa riflessione che ho fatto centri o non centri e ho detto ma noi accettiamo però le vaccinazioni morbillo parotite rosolia con tranquillità tutti vanno a fare le vaccinazioni a parte alcune persone che sono contrarie alle vaccinazioni ma lo accettiamo ma allora cosa sono i rischi questa è una tabella pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'epicentro rispetto a questo tipo di vaccino e quali sono gli effetti cominciate a vedere che gli adulti hanno più effetti malgrado ci siano pareri controllo con questa vaccinazione rispetto ai bambini ma vedete che noi accettiamo che ci sia una possibilità di convulsioni febbrili sicuramente peraltro lo definisce rare superiore a quello della vaccinazione con covid non mi addentro nelle altre effetti colaterali ma di convulsioni febbrili non ne abbiamo viste e non ne abbiamo viste neanche nelle segnalazioni dagli Stati Uniti con oltre 5 milioni di bambini vaccinati ora l'efficacia di quest'operazione che stiamo facendo è documentata in quello che è stato presentato quindi io vi dico quello che è lo studio vedete come i casi dentro al gruppo di placebo sono stati numerosi questi sono stati esattamente soltanto tre casi un due tre dopo la vaccinazione questo a cosa ha stabilito ha stabilito che nella questa categoria dei ragazzi sopra cinque anni i benefici della vaccinazione sono superiori ai rischi conosciuti e potenziali la valutazione dei dati è stata fatta dopo gli americani anche dagli organi competenti europei ed dall'AIFA italiana e in questo momento abbiamo avuto la registrazione anche in Italia di questa fascia lo sapete da poco tempo abbiamo iniziato a vaccinare Francesca te la parola eccomi arrivo io con le paure con la possibilità di poterle esprimere liberamente cosa che i nostri bambini tra l'altro sono abituati a fare vivono le loro paure le esprimono è perché sono anche fortunati sono abituati nel maggior parte dei casi a trovare poi un conforto delle rassicurazioni nell'inconfronto con i genitori e nella fiducia che hanno nei loro confronti adesso con gli aventi avversi i sintomi c'è il terrorizzato il long covid ma chi è che comporta e rassicura i genitori e chi è che gli aiuta e si assume le responsabilità insieme condividono le responsabilità che li accompagna condividono le responsabilità di alcune scelte che intesa sia come decidere di vaccinare come decidere di non vaccinare con i rischi che queste decisioni comportano e quindi la domanda con cui ti lascio continuare è appunto di pronta situazioni nuove incerte come quella che stiamo vivendo come possiamo affrontare le preoccupazioni come i genitori come possono affrontare le loro preoccupazioni sì diciamo che è una domanda diciamo che possiamo dire che la condivisione e la ricerca di informazioni da fondi attendibili lo vedremo dà parzialmente una risposta ma soprattutto il confronto continuo anche nell'interno dei genitori e con ovviamente le persone di fiducia che bisogna scegliere bene sia le fonti sia le persone a cui si rivolge troppa confusione non fa affatto bene crea soltanto ulteriore rimbombo intorno a questo argomento le preoccupazioni ovviamente sono tante come vi dicevo il primo ma quegli studi che vi ho presentato la numerosità dei pazienti è sufficiente per dire che è sicuro per mio figlio questo vaccino su questa e come vi dicevo quella stessa domanda che ho fatto io ma insomma la numerosità dei due studi presentati cosa ci dice su questa su questa cosa qua allora la cosa che ci dice è che la numerosità degli studi in questo caso dei bambini viene parametrata viene rapportata al numero di individui che dobbiamo vaccinare era 35.000 per quanto riguardava la popolazione generale abbiamo tirato dentro 4.000 bambini nella sperinazione suddivise in gruppi voi l'avete visto soltanto quello di un gruppo evidentemente ma come vi dicevo esisteva il gruppo 10 20 e 30 microgrammi quindi la sicurezza è stata fatta su tutto il gruppo dei 4.000 bambini e l'obiettivo era quello di dimostrare che non ci sono rischi aggiuntivi rispetto a quelle categorie che erano già state autorizzate questo è quello che normalmente vengono fatte per gli studi dei bambini quando il farmaco è già approvato all'interno delle altre classi d'età in quel caso degli adulti differente sono la numerosità necessaria quando si approva un farmaco che è solo per i bambini allora a questo punto i numeri cambiano e la necessità di dimostrare è differente vi ricordo ovviamente che rispetto a questa cosa qua a questo lavoro abbiamo adesso veramente 5 milioni di bambini americani vaccinati 3 milioni con la doppia dose non sono stati segnalati eventi avversi gravi anche perché ovviamente in questo momento e questa è una cosa un po' che vi devo spiegare abbiamo imparato quali sono gli eventi abbiamo imparato a stare attenti a alcuni sintomi ci sono delle situazioni prima avete parlato della abbiamo parlato sull'altro ho parlato io della pericardite della mia carità ora ci ha preso di sorpresa a Israele quando ho pubblicato questa cosa qua non ci aspettavamo perché era un evento che essendo molto raro la numerosità non aveva permesso di individuarlo ma nel momento in cui è stata individuata e si sa che questo è possibile beh è un effetto collaterale che se preso in tempo trattato di fatto non lascia nessun tipo di problema a differenza di quello come vi dicevo della malattia covid che in quel caso lì è la portata dell'infiammazione è tale ed è multisistemica e ovviamente da curare è assai più assai più complessa quindi la cosa che posso dire è ok teniamo gli occhi aperti cioè nel senso che comunque di fatto abbiamo delle sicurezze abbiamo delle sicurezze in questo momento addirittura come dicevo prima per il vaccino covid nessun farmaco ormai è così sperimentato abbiamo parlato di miliardi di persone vaccinate ormai sappiamo quasi tutto di quello che può succedere e abbiamo un'attenzione rispetto a quello che sta succedendo ma gli occhi aperti dobbiamo assolutamente mantenerle sia noi che voi senza aver paura di fare una segnalazione sapete spero che qualsiasi cittadino italiano può fare una segnalazione rispetto a un evento avverso che lui pensa essere correrato alla somministrazione di un farmaco ma ancora qualcuno mi ha fatto notare che accidenti i bambini già fanno 14 vaccinazioni ma come cioè non è che li stiamo sovraccaricando eccetera eccetera allora se vi dico un sovraccarico esiste quello di portarlo avanti e indietro dalle sedi vaccinali perché invece da un punto di vista immunitario come vi ho detto il meccanismo che usa il vaccino è esattamente quello che usiamo per tutti i virus e i virus ne incontriamo tutti i giorni quindi non c'è possibilità di sovraccaricare il sistema se no i novantenni che ne hanno incontrati chissà quanti chissà in che situazioni dovrebbero essere invece ne conosco parecchie che stanno assai bene ma l'altra cosa che vi volevo spiegare era che i bambini rispondono diversamente da noi rispondono diversamente da noi sia anche alle malattie ma anche alle vaccinazioni cioè rispondono con quella che viene chiamata immunità innata a specifica è un'immunità vergine che di fatto ha ricevuto pochi stimoli antigenici quindi risponde in maniera molto più efficace molto più duratura e meno soggetta a decadimento rispetto a una vaccinazione fatta a me questo è uno dei motivi per cui oltre perché per coprirvi le vaccinazioni sono spostate tutte nella fase dell'infanzia vi ricordo che anche quello del papillomavirus abbiamo utilizzato i 12 anni per coprire le cohorti delle bambine che erano già inizialmente avevano già passato il periodo della vaccinazione ma appena abbiamo concluso quella coorte siamo tornati alle vaccinazioni nell'età in cui la risposta immunitaria è più efficiente e più funzione e come vi dicevo le vaccinazioni sono una minima parte degli stimoli antigenici e dei virus che incontriamo e quindi in qualche modo non dobbiamo avere preoccupazione rispetto ad un sovraccarico immunitario credo che a questo punto dovremmo affrontare l'argomento successivo cioè qual è il motivo per vaccinare i bambini allora qua partiamo da una considerazione i bambini ammalano poco virgolette abbiamo visto che poi alcuni però ammalano anche gravemente e perché a questo punto prendimi i rischi delle vaccinazioni credo che questo sia un ragionamento vale la pena di mettere in campo tutte le riflessioni che abbiamo la prima riflessione è ovvio che ne abbiamo parlato ci sono complicanze gravi in pochi bambini ma ci sono e ovviamente quando poi parliamo di bambini anche come vi dicevo anche pochi sono troppi quindi abbiamo la sindrome di ammatoria multisistemica abbiamo le meocardite abbiamo altre patologie rispetto a questa cosa qua compreso il soggiorno nel ricovero di terapie intensive ma e qua vediamo cominciamo ad entrare nel tema di questa serata le complicanze per i soggetti che già sono portatori di fragilità organica o di disabilità organiche e anche per i soggetti che hanno problemi di tipo compartimentale per cui fanno fatica a mantenere il distanziamento quindi hanno più probabilità di contrarre il virus e quindi di entrare dentro quella corte di bambini che hanno l'infezione e che quindi possono anche ammalare più gravemente ma anche ovviamente la possibilità di avere un'infezione long covid di cui avete già sentito parlare ma i bambini non sono sordi e ciechi i bambini ci hanno ascoltato tanto in questo periodo hanno sanno credo la maggioranza i bambini sanno cosa vogliamo dire quando parliamo di immunità di gregge e cosa vogliamo dire quando abbiamo bisogno di proteggere i nostri nonni e le persone più fragili e malati loro stessi possono sentirsi dentro in queste categorie e quindi credo che il lasciarli contribuire al raggiungimento di queste immunità di gregge sia un modo di tenerli dentro alla nostra società e dentro questa società c'è anche una società che ha bisogno di socialità ha bisogno di mantenere il più possibile le scuole centri di aggregazione o sportivi meno cluster meno paura meno infezioni un ritorno graduale a normalità attraverso anche il fatto che meno bambini ammalano e le paure dei bambini abbiamo parlato ne abbiamo accennato i bambini sono in ansia anche loro per loro il contatto sociale poi se lo scordano perché giocano benissimo ma hanno paura di infettarsi ma anche di infettare gli altri e abbiamo bisogno che si rilassino nel gruppo dei pari vi dico semplicemente questo da fuori dalla scuola con mia nipote ogni tanto guardo i bambini con quale attenzione si scambiano cosa un biscotto no di nascosto dai genitori normalmente ma si vede che anche per loro questa parte qua che è una parte sociale è una parte che gli fa fatica che capiscono che dentro lì c'è qualcosa che li può mettere in pericolo e l'altra cosa è essere pericolosa per il nonno per la nonna per il papà per i propri cari per il fratellino con problemi ecco questa cosa qua è una una sensazione un dato una importante su questa parte qua e sul togliere la paura e la sensazione di essere minacciati invito tutti voi a ricordarvi il giorno dopo la seconda vaccinazione ecco io personalmente mi ricordo che mi è calata la quest'ansia di essere pericoloso per mia madre la possibilità di portare a casa il virus visto il lavoro la ma anche la sensazione di minaccia degli altri io non ho modificato le mie abitudini rispetto all'uso della mascherina il lavaggio delle mani ma mi sono sentito meglio con meno ansia ecco io credo che anche per i nostri figli questo sia una una parte importante e torno a bomba rispetto al alla cosa già detta nella slide precedente fare parte di un processo essere inclusi no in abbiamo chiesto dei sacrifici no e e adesso naturalmente ce ne saranno ancora da fare abbiamo delle decisioni ci ascoltano quando prendiamo decisioni difficili bene fa parte di questo progetto è secondo me un obiettivo che come genitori abbiamo da organizzare e da diciamo così praticare come poi a ognuno di voi le modalità e per tornare su questo argomento perché visto che vi ho dato dei dati vi ricordo quelli che sono i numeri abbiamo i casi positivi da quelli registrati da 0 a 18 anni che sono 808.226 eccetera i ricoveri in quella fascia d'età sono 8.500 circa che sono l'1,17% in terra pensiva sono finiti solo 251 ragazzi tra lo 0 e i 18 anni lo 0,03% ok fino a un po' di tempo fa potevamo pensare che se teniamo i nostri ragazzi molto chiusi se stanno molto attenti e sono molto entrati forse il covid se lo potevano scampare ad oggi con i dati che abbiamo in mano e che credo di avervi dimostrato questa certezza è un po' meno sicura quindi noi possiamo pensare che in assenza di un intervento vaccinale ci potremmo trovare in una situazione di questo tipo abbiamo detto che ovviamente possiamo pensare ma 808.000 sono proprio tutti positivi ma no abbiamo detto che il 50% sono asintomatici e allora il 50% non li abbiamo visti quindi i bambini che si sono infettati in questo periodo potrebbe essere 1.7.000 siamo d'accordo quindi i ricoveri su 1.7.000 non sono ovviamente l'1.17% ma scendono allo 0.5% di probabilità va bene ma questo vuol dire che se io lo applico alla popolazione dei bambini degli 8 milioni restanti ho comunque 40.000 ricoveri e con lo stesso modalità ho mille bambini che mi finiscono in terapia intensiva voglio dire è comunque un numero importante e per stasera per noi come vedrete è un numero molto importante perché la distribuzione di questi bambini che finiscono in situazioni di gravità non è distribuita in maniera uguale e coinvolge molto di più i bambini che sono portatori di qualche fragilità vi darò anche i numeri di questa mia affermazione perché adesso parliamo proprio di popolazione di bambini fragili allora ho cercato un po' nella letteratura anglosassino anglosassone cercare che è un po' più pragmatica della nostra cercando quali sono i dubbi specifici dei genitori di bambini con disabilità e ho trovato una serie di temi che vi sottopongo perché secondo me sono comunque interessanti il primo è legato al fatto che il bambino con disabilità ha già vissuto una serie di situazioni traumatiche che siano non solo le vaccinazioni ma anche i ricoveri eccetera eccetera allora il fatto di dire benissimo c'è un'ulteriore cosa forse è troppo forse lui non ce la fa ma anche sostanzialmente di pensare che è un bambino più fragile e quindi avrà più conseguenze di una vaccinazione specificatamente proprio perché è fragile oppure ancora di più riportato dalla letteratura e anche dall'esperienza clinica avere la sensazione di non avere più energie per gestire altro di essere proprio al limite rispetto alla situazione e quindi di dover affrontare una nuova convincimento una nuova situazione ma anche banalmente una nuova febbre piuttosto che una nuova situazione di tensione e ovviamente molto molto questo è molto degli Stati Uniti ovviamente un problema di sfiducia nella sanità ma anche nostro anche l'esperienza non sono sempre ottimali del sistema sanitario esperienze fatte nel passato al momento della nascita al momento della diagnosi eccetera eccetera e quindi i genitori su questa esperienza la perdita di fiducia in questo momento gli pesa quando devono prendere una decisione e anche ovviamente quello che abbiamo un po' detto prima la difficoltà maggiore di comprendere le manifestazioni di un eventuale malessere disagio dopo la vaccinazione e allora la letteratura ci dice anche un po' da dove nasce questa maggiore fragilità quali sono i percorsi che la costruiscono questa fragilità esempio alcuni sono ovvi la presenza di altre patologie organiche polmonari cardiaca metaboliche endocrinolide ovviamente ovvio questa è veramente una situazione che espone a persone una maggiore fragilità la necessità di un numero di persone che stanno a supporto e che girano intorno al soggetto portatore di una disabilità ma anche molto spesso la necessità di una vicinanza fisica di un contatto con il personale di supporto della terapia che per carità avrà prenderà tutte le precauzioni ma comunque il numero di persone è comunque ampio e l'altra l'altra faccio pezzo è mantenere quelli che sono le necessità di socializzazione dicevamo la mediazione tra la sicurezza e la salute mentale per alcuni soggetti la socializzazione ed è esperire dei contatti con i pari è vitale nella stabilizzazione della loro situazione clinica e l'altra cosa ovviamente è che per alcune persone è veramente difficile modificare quelle che sono le routine organizzative psicologiche eccetera eccetera e quindi introdurre altre variazioni può essere altamente complesso ma ancora la difficoltà nell'uso delle mascherine nella gestione del distanziamento no il fatto che potrebbe esserci problemi legati alla mobilità e dentro questa limitata possibilità di mobilità anche la possibilità di areare di spostare la persona in altri spazi per mantenere areato la stanza e ovviamente una delle difficoltà che vedremo come possiamo affrontare la difficoltà dell'accesso dell'informazione in maniera comprensibile ritorniamo al tema del sovraccarico della gestione del quotidiano e come vi dicevo già prima abbiamo e già ben introduceva la dottoressa Costantino su questo argomento il difficile equilibrio tra le strategie di supporto della salute e le strategie di prevenzione che non riguarda soltanto la uompia e l'infettivologia riguarda anche le strategie che si adottano in casa e quanto si è aderenti o quanto di fatto si deve adattare alla salute mentale del soggetto alcune strategie su questo è la mediazione e il lavoro fatto in questi anni cercando di trovare un buon equilibrio e vediamo ai numeri questa fragilità in che cosa sfocia quando vi dicevo quei 1100 non è che sono distribuiti equamente perché un bambino che ha una disabilità fisica o psichica a tre volte più probabilità di contrarre il covid e anche una probabilità di due volte superiore di essere ricoverato a causa dell'infezione complessivamente quando si guardano i dati ha una probabilità di avere un decesso per covid o sue complicanze sei volte un bambino della stessa età praticamente senza problemi disabilità psichica o fisica quindi la conclusione di questo pensiero è che i soggetti con disabilità fisica o psichica devono essere considerati soggetti ad alto rischio che per loro l'indicazione a essere protetti è una indicazione in più ovviamente e non una controindicazione a fare la vaccinazione fatta e salvo il fatto che ogni caso è a parte ogni genitore deve fare una sua valutazione rispetto a questa a questa situazione ma questi sono i numeri con cui per ora abbiamo a che fare ora che cosa possiamo fare come ci possiamo muovere l'alteratura un po' di cose ce lo dice e ne stavamo un po' parlando le strategie di sicurezza devono essere adattate alla singola situazione non esistono soluzioni non esistono rimedi che vadano bene per tutti ricordarsi come si diceva che il virus come l'ome o micro che è più infettivo meno uguale letale non è un bel problema perché ovviamente nel momento in cui è più infettivo aumenta il numero delle persone infette e tra queste sostanzialmente la possibilità per una persona portatore di una disabilità di avere una grana grossa è alta è un dato che vi riporto dell'Inghilterra che dice che i bambini che hanno avuto una letalità dopo il covid la metà sostanzialmente erano portatori di una disabilità e ulteriore consigli per gestire questa situazione qua è quello di coinvolgere attivamente i bambini vediamo un attimo cosa ci dice Francesca su questo argomento sì ed ecco che qui ritorno io per portare invece la voce dei bambini appunto che come dicevo prima non sono soli di solito a cercare le risposte comunque ad esprimere le loro preoccupazioni vivono come dicevi tu da tanto tempo in questa situazione di incertezza e non sono sordi sentono non capiscono e anche la paura assorbono osservando le nostre difficoltà e quindi in questo momento in cui gli chiediamo di partecipare tu dici con gioia io ne conosco alcuni che gioiosi non sono andati a vaccinarsi però comunque sia che vadano con una consapevolezza o un diritto che è quello di capire cosa gli stiamo chiedendo cosa sta accadendo che cosa accadrà anche se la risposta può essere quella che abbiamo imparato a capire ma abbiamo imparato da te oggi cioè che forse non lo sappiamo cioè bisogna anche essere disposti a dire ai nostri bambini che non lo sappiamo esattamente cosa accadrà per il college per esempio e ad alcune domande possiamo anche non avere la risposta però questo non vuol dire che non li dobbiamo coinvolgere perché se no significherebbe lasciare i messori a cercare le risposte i bambini a volte non sanno formulare le domande per quello che vanno accompagnati proprio anche a costruire delle domande anche quando ci sembra disinteressati anche quando ci sembra che la cosa non c'entrano agli riguardi ecco no invece dobbiamo imparare ad accompagnarli a fare le domande giuste per poter dare le risposte non lasciarle soli nella situazione specifica poi della vaccinazione anche perché sentendo le nostre perplessità le vivono e come dire magari non le esprimono ma sicuramente le vivono anche loro anche riguardo alla vaccinazione quindi dobbiamo lasciare spazio a loro vai esattamente Francesca secondo me quando scoglie uno un aspetto importante che è quello del parlare di lasciare spazio ai bambini e per lasciare gli spazi abbiamo bisogno di creare con loro una comunicazione e quindi abbiamo bisogno innanzitutto di parlare esplicitamente talvolta il bambino riceve la informazione in maniera tangenziale e quindi dà l'impressione di non essere interessato ma in realtà ascolta e magari tornerà sull'argomento successivamente e è il compito nostro dire che cosa sta succedendo nel modo più semplice possibile e anche cosa abbiamo capito di che cosa succederà la comunicazione non devo dirlo ovviamente comunicarlo a voi ma deve essere in una forma semplice diretta devo utilizzare dei materiali delle figure di supporto per esempio le immagini con delle immagini o i simboli della comunicazione aumentativa e in complesso la comunicazione deve avere una tonalità che dice ce la possiamo fare noi insieme quindi in qualche modo tirandoli dentro in questa anche sfida che stiamo facendo insieme e non stancarsi mai e questo credo che lo sappiate molto bene di riprendere gli argomenti di ripresentare il materiale di rileggerlo insieme ma quale materiale ma il materiale per esempio che trovate nel sito della sovrazonale di comunicazione aumentativa di cui vedete l'indirizzo e che per esempio ci fa ci sottopone una storia di Camilla che va dal dottore molto generica è una tradotta oppure quello che vedete sotto tradotto in simboli invece per una vaccinazione una stringa che racconta ed esplicita che cosa succede durante la vaccinazione oppure per i bambini un po' più grandi vedete questo mondo questo mappamondo sostanzialmente sempre relativo al il mio vaccino a domani è più raccontato più una storia raccontata e invece una stringa più semplice proprio relativa alla basic della comunicazione sulla vaccinazione che vedete potete utilizzare quella sulla vostra destra ma ancora vi ricordo che in produzione non avete ancora le immagini le belle figure eccetera eccetera un nuovo libro di cui è autrice proprio Francesca che racconta la storia di bambini che parlano e discutono intorno alla vaccinazione covid e alle loro paure e alle loro emozioni e forse questo è un po' la chiave lo dico da infettivologo che come sapete sono assorbite alcune che raccontare aiuta a tirare fuori le proprie emozioni aiuta a tirare fuori le proprie paure guarda guarda nel leggere insieme come gli adulti affrontano quelle situazioni che fanno paura come si comportano io credo che questa cosa qua di parlare ai bambini in modo che comprendano che possono essere rassicurati e oggi vi dico anche preparati aiutateci quando dovremo vaccinare a avere dei bambini che hanno già fatto il percorso tante volte attraverso il materiale e arrivano già motivati in cui le emozioni le hanno già tirate fuori sono già in grado magari di esprimerle dicendo di che cosa hanno paura quali sono le loro preoccupazioni e credo anche che questo possa aprire alla possibilità proprio come nel libro scritto da Francesca che troverete prossimamente pubblicato la possibilità di confrontarsi tra di loro e e anche con chi la pensa diversamente su questo argomento ovviamente torneremo tra poco quando non siamo stati esaustivi non nel convincervi stasera ma nel darvi gli strumenti per decidere esiste un'altra possibilità ancora e che questi materiali che vi abbiamo portato che non è tutto quello che abbiamo trovato e siamo consapevoli anche che come abbiamo detto ogni situazione ha una sua una sua soluzione e crediamo che vi possiamo dare alcune strategie per trovare una scelta consapevole oltre quella che abbiamo cercato di dare noi questa sera prima di tutto cercate delle fonti ufficiali credibili di informazioni io vi ho messo quelle che utilizzo io l'istituto superiore di cialità e l'epicentro che è il centro epidemiologico e che dà informazioni sia sui farmaci sui vaccini sia sui criteri per utilizzare uno o l'altro vaccino evitare assolutamente io personalmente non leggo più nulla se non appunto queste fonti la sovraesposizione sull'argomento si dice tutto di più c'è chi lo fa di mestiere di portare informazioni informazione fa ovviamente il suo di mestiere ma non ci fa bene continuare a questa in questa sovraesposizione di e contraddizione del delle delle informazioni evitare la di rincorrere delle certezze assolute credo di averlo detto e di averlo dimostrato ci sono delle certezze parziali temporanee su quelle ci appoggiamo per poter dire che abbiamo fatto la scelta migliore oggi con le conoscenze che ho solitatamente ed evitare anche le eccessive semplificazioni da bar che dicono è così è così eccetera eccetera senza entrare nel merito dei problemi i problemi sono sempre complesse i problemi vanno sempre adattati alle singole situazioni ai singoli figli e i singoli bambini con cui avete a che fare ovviamente come abbiamo fatto noi come abbiamo fatto tra infettivologi e neuropsichiatri il dialogo aperto dicendo cosa si pensa quali sono le preoccupazioni dei uno dell'altro e questo vale anche all'interno e all'esterno della famiglia e anche nei contesti che potete frequentare chiedere ovviamente questo lo sapete che è il tema perché è l'argomento con cui ho aperto la riferimento di un sistema sanitario che c'è di cui già vi fidate più o meno ma che di fatti in qualche modo vi ha già dato delle risposte i pediatri gli operatori della UOMP gli operatori della riabilitazione e mantenere la testa aperta come spero di riuscire a fare io rispetto alle novità e cambiare e non aver paura di cambiare idea o di prendere posizioni differenti di fronte a nelle nuove evidenti e se non vi siamo riusciti a dare questa informazione sufficiente per coloro che si appoggiano alla UOMP e del Policlinico di Manolo abbiamo pensato allo sportello lo sportello ve l'abbiamo detto lo sportello di ascolto a cui si accede attraverso la prenotazione alle segreterie dei centri UOMP territoriali e verranno fissati delle serate dei momenti in cui avrete degli incontri direttamente con l'infettivologo con una psicologa per approfondire ulteriormente per accompagnarvi verso una scelta consapevole Francesca a te questa slide complessa avevo tolto l'audio che bello atto chiedo scusa è facilissima invece è facilissima perché è la chiosa di quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi fino ad ora cioè che scegliere può essere anche decidere di non cambiare idea quindi tutto quello che stiamo presentando le opportunità anche di confronto non sono una forzatura ma sono un reale spazio di dialogo quindi che può avere può prendere strade diverse anche opposte e quindi anche decidere che l'idea con cui si è entrati allo sportello riesce e questo viene accolto e rispettato ugualmente allo stesso modo sì infatti dovevo specificare che è difficile per gli infettivologi ma smetti la notizia è un infettivologo comune allora e adesso io vi dico un po' di cose che rispetto un po' come ci possiamo muovere in questa situazione la prima riflessione è molto semplice è un vecchio detto inglese che dice tenetevi l'influenza per voi stessi abbiamo già il covid che circola se confondiamo anche con l'influenza comune che comunque sta circolando di fatto non capiamo più niente in Inghilterra se vai a lavorare e hai il raffreddore ti arriva una lettera di richiamo nel senso che le persone che hanno sintomi devono stare da subito a casa questo vale anche per i bambini nelle scuole so che è faticoso so che è una situazione per cui tutti lavoriamo tutti abbiamo problemi ma credo che sia l'unica possibilità l'alternativa ovviamente è continuare a fare tamponi a tutti ogni volta che c'è uno sternuto credo che sia più corretto anche se il bambino ha dei sintomi specifici dell'adulto e dei sintomi specifici ovviamente si passerà poi al tampone deciderà il clinico che cosa fare ma anche con sintomi a specifica mi raccomando mantenere a casa i bambini fino alla risoluzione dei sintomi stessi secondo argomento è vedo spesso delle persone che quando si tolgono la mascherina poi tendono a non rimettere a non rimettere su questo una riflessione credo che non sia mai troppo tardi per rimettersi la mascherina la carica virale iniziale di ogni infezione è fondamentale per dire come andrà a finire se becco 5 di virus è un conto se ne becco 100 è un altro la malattia sapete che è una malattia a due tempi prima c'è la parte infettiva e poi c'è la parte infiammatoria se nella parte infettiva ho tempo perché la dose iniziale è bassa di farmi gli anticorpi di creare un sistema immunitario presumibilmente non si passa alla parte infiammatoria se mi arriva una quantità di virus grandissima evidentemente il mio sistema immunitario che ci mette un po' a creare una risposta fa in modo che parta tutta l'infiammazione quindi se siamo a tavola benissimo togliamoci per mangiare rimettiamoci la mascherina subito dopo per esempio tra un patolato oppure quando anche all'aperto si inizia a discutere animamente perché è l'argomento interessante beh siccome comunque parliamo ad un metro di distanza ci si può mettere la mascherina a tutela di questo ragionamento della quantità di virus che ci potrebbe infettare e ovviamente la ventilazione vi ricordo che è arrivata tardi altra conoscenza avevamo detto che l'importantissimo erano le superfici che è ancora vero ma non avevamo detto quanto era importante areare gli ambienti è una conoscenza successiva ad oggi la prima cosa l'avete visto anche nel semaforo del rischio è come parametro quanto si può ventilare lo spazio e mi sono permesso anche di darvi qualche suggerimento vi dico che sono suggerimenti pensati per coloro che hanno in casa una situazione di fragilità ovviamente si possono estendere anche in altre condizioni ma sono pensate per questa cosa e quindi la prima cosa perché l'ho fatta personalmente decidere il numero di invitati secondo l'ampienza dei locali e la loro possibilità di essere areggiato so che il Natale fa piacere ma sostanzialmente dobbiamo mantenere specie se abbiamo in casa qualcuno di fragile voglio dire dei parametri molto alti di sicurezza specie per come avete visto che sta andando la la quarta ondata dopodiché non accettare persone sintomatiche questo vi sembra ovvio anche se tamponati ricordatevi che i tamponi rapidi hanno comunque un 80% di sensibilità e non il 100% e quindi in qualche modo uno su cinque rimane fuori che non è esattamente poco dei positivi e l'altra cosa è soggetti non vaccinati secondo me devono essere in questo momento non inseriti in tavolato dove sono contemplate persone con alta fragilità credo che gli invitati devono essere posizionati a distanza anche a tavola ragionevole il limitare dei nuclei familiari delle bolle come ormai tutti li chiamiamo e suddividere eventualmente in più cene con quindi utilizzando meglio lo spazio vedendo solo evitando di fare dei grossi cluster dove se c'è per caso un infetto mi ovviamente infetta tutte le persone l'altra cosa sono le modalità tutti avete seguito un serial serie televisivo in cui c'era un personaggio che quando mangiava non voleva assolutamente che gli si parlasse e lui non parlava senza volvere arrivare a questa situazione qua bene se abituiamo che anche nelle tavolate parliamo uno per volta evitiamo la musica di fondo e se per caso parte una discussione vivace ci ricordiamo di mettere una la mascherina quando parliamo perché non è possibile mangiamo ce la togliamo parliamo ci rimettiamo la nostra mascherina e ovviamente cantare avete visto nel semaforo quanto cantare e le le discussioni accese possono essere un rischio di trasmissione di particelle e come siamo detto ovviamente vi sembra persino inutile sottolinearlo evitare di scambiarsi posate e piatti vi concludo un po' su questa parte qua perché abbiamo parlato tanto di incertezza e vorrei dire che è per tutti veramente tanto faticoso lo è per voi lo è per noi che lavoriamo come professionisti in questa situazione e ogni giorno cambiamo dobbiamo spiegare alle persone nuove certezze parziali e ovviamente prenderci un po' la loro rabbia anche la loro confusione la loro voglia di semplificazione quindi non perde mai la pazienza rispetto allo spiegare questa cosa qua e vi ricordo ancora che la scienza ci fornisce queste certezze parziali che è proprio il modo con cui evolve mettere in discussione le certezze è il modo di progredire della scienza e per fronteggiare l'incertezza dobbiamo come vi ho già accennato avere questa consapevolezza noi prendiamo le miglior decisioni possibili rispetto alle informazioni che abbiamo io credo che non possiamo conoscere tutti questa è una cosa possibile abbiamo delle informazioni in base a quelle prendiamo le decisioni quando era giugno le prendevamo con le conoscenze di giugno oggi a dicembre le prendiamo con le conoscenze di giugno questo è quello che possiamo fare e l'altra cosa che secondo me è veramente importante che fa parte un po' della condivisione è che si dice che i ragazzi ci ascoltano le modalità con cui affrontiamo l'incertezza le discussioni in casa e anche i disaccordi in casa in questo momento come utilizziamo le parziali sicurezze sono assorbite vengono riportate ricordate ci sono anche dei termini tecnici per definire queste cose qua ma io non ce li ho ma so che sono fonte della resilienza dei vostri ragazzi per il vostro futuro imiteranno esattamente le modalità con cui state affrontando questa situazione qua e su questa cosa vi dico questa quest'altra riflessione sia la contrapposizione assoluta bianco nero no non ne voglio sapere sia l'assoluta delega assoluta i medici dicono che così va bene ecco perde quest'occasione qua perde la possibilità di farvi vedere come cerchiamo l'infezione come discutiamo come ci confrontiamo intorno a questa cosa qua e sono queste le cose che invece restano ai ragazzi e quindi questa sera per tutti i dubbi che avete ancora e che saprete discutere tra di voi vi ringrazio da parte dei vostri figli perché da questi apprenderanno cose importanti per la loro vita e vi lascio con questa immagine di due che avevano una grossa incertezza anche tanto tanto tempo fa grazie per l'attenzione e buona serata